Benvenuti nell'Ottocento. Benvenuti in questa puntata nella quale andremo a fare un'escursione in Italia insieme all'esercito rivoluzionario francese, insieme ai funzionari napoleonici, alla ricerca di opere d'arte da trafugare. Se volete portarvi dietro qualche bel quadro del rinascimento fiorentino o del barocco romano, venite insieme a me e vi farò da guida in questa incredibile avventura alla ricerca dell'opera d'arte migliore. Sigla! Bene, benvenuti nel mio studio. Avete visto l'introduzione era un po' leggera, ma serviva per centrare il punto. Oggi andremo a scoprire quello che è stato uno dei momenti più tristi della storia dell'Italia preunitaria, vale a dire il lungo periodo del saccheggio napoleonico nella nostra penisola, saccheggio che ha portato via veramente di tutto dalla penisola italiana. Grandi capolavori sono stati portati in Francia e sono stati portati in Francia con una perizia scientifica per creare in Francia il più grande e più bello dei musei, il Louvre. Per capire questa storia occorre fare un passo indietro e andare a ripercorrere brevemente le premesse ideologiche della rivoluzione francese, perché è proprio da lì che dobbiamo partire per comprendere come mai a un certo punto i rivoluzionari francesi si inventano di saccheggiare la nostra penisola, ma anche le altre terre europee, il Belgio, l'Austria, i Paesi Bassi, tutto dove sono passati i francesi, hanno lasciato dietro di sé una lunga scia di violenze, sopprusi e anche rapine di opere d'arte, però in Italia si sono accaniti particolarmente. Dunque andiamo a vedere le premesse ideologiche perché ci servono proprio per capire come mai si è arrivati a questo saccheggio. Ebbene la rivoluzione francese pretendeva di riscrivere il mondo e di creare un mondo nuovo. E' veramente una cesura tra il mondo vecchio, d'Ancien Regime e il mondo nuovo, il mondo rivoluzionario, un mondo che sarà finalmente libero secondo le ideologie rivoluzionarie e quindi sarà un mondo perfetto, perché la rivoluzione francese questo vuole fare, creare il mondo perfetto. Tutti voi capirete che è un'utopia e come le utopie generalmente finiscono in disastri, così la rivoluzione francese è finita in un bagno di sangue, in un disastro che ha portato sulla ghigliottina decine di migliaia di persone e molte molte altre sono state uccise durante la repressione delle insorgenze antifrancesi. Molte altre sono morte sui campi di battaglia. Napoleone ha poi contribuito, dando del suo, creando dei cimiteri immensi in tutta Europa, che sono le grandi battaglie napoleoniche che ancora oggi tanta memoria hanno dietro di sé. E allora questa idea di creare un mondo nuovo, un mondo perfetto, porta la rivoluzione francese, porta i suoi ideologi a creare anche degli edifici atti a contenere le vestigia del mondo vecchio, i musei. E già che prima non c'erano i musei, c'erano le collezioni private. Qualcuno aveva tentato di aprire queste collezioni private al pubblico, ad esempio ci avevano provato anche i papi, ma rimanevano sempre delle collezioni rivolte a degli intenditori intellettuali che amavano l'arte e che andavano con molta calma ad ammirare le opere, in genere poche opere per studio privato. Erano grandi collezioni, specialmente in Italia, che venivano aperte al pubblico per il piacere degli intenditori. La rivoluzione francese invece dice tutto il mondo che c'è stato prima di noi e da cancellare. Però dopo averlo pesantemente distrutto, aver contribuito con operazioni di vandalismo alla distruzione del mondo precedente, noi andremo a creare dei musei per farvi vedere le vestigia del mondo che fu. Usato il termine vandalismo non a caso perché la parola vandalismo viene coniata proprio durante la rivoluzione francese dall'abbé Henri Gregoire, che è un rivoluzionario, il quale denuncia le operazioni di spogliazione sistematica che facevano i francesi nelle chiese, nei palazzi d'arte, spesso devastando senza nessun fine di preservazione delle opere d'arte, quindi vandalismo fino a se stesso, e definisce queste operazioni proprio con il termine che noi usiamo oggi, vandalismo. E allora dopo questa fase violenta la rivoluzione crea i musei, aprendo specialmente il palazzo del re, il Louvre, alle visite delle persone che possono entrare agilmente pagando un biglietto per vedere le collezioni reali. Va detto che questa è un'operazione di propaganda, bisogna far vedere intanto come era Ricorreire e poi far vedere la nuova Francia come è ricca di opere d'arte che mette a disposizione del pubblico. È un'operazione sapientemente condotta perché il Louvre diventa il baricentro della vita artistica francese. Chiaramente voi non dovete immaginare le folle oceaniche di turisti che vengono ad avvirare la Mona Lisa o le altre opere del Louvre. No, rimanevano visite per intenditori. Difficile pensare che il ciabattino, il panettiere o il pescivendolo di Parigi potessero visitare il Louvre come facciamo noi la domenica pomeriggio andando a vedere uno qualsiasi dei musei italiani. Quindi resta un'opera, una visita per intenditori. Ma la propaganda fa sì che il Louvre diventi il museo per eccellenza d'Europa e il modello del nuovo tipo di arte, di concepire l'arte. Infatti l'arte prima era nelle case private di persone che potevano apprezzare l'arte oppure era nelle chiese in modo tale che le persone che non avevano soldi per permettersi dei capolavori piccoli o grandi da esporre in casa potessero comunque fruire delle bellezze artistiche. Badate che l'arte, specialmente se nelle chiese, ha una funzione didattica. Serve per capire i principi della religione cristiana e serve anche per educare al bello le persone. Dunque l'arte nelle chiese è a disposizione di tutti, arte per tutti e le chiese sono dei musei per questo motivo. Non perché la chiesa vuole essere ricca ma semplicemente perché voleva educare. Ormai nella nostra contemporaneità il concetto estetico è andato perduto anche nelle chiese per cui esistono chiese orrende semplicemente perché a Monte si è perso il motivo di esporre dell'arte bella estetica nelle chiese e anche di avere chiese adeguate a contenere dell'arte bella, quindi con una bella e sana architettura. Tutta questa concezione faceva riferimento al mondo d'ancien regime. Il mondo nuovo cancella completamente questa impostazione della società. Però hai voglia di distruggere le opere d'arte e non ci guadagni nulla, tanto vale metterle nei musei. Ed ecco che nasce il Louvre come contenitore, come scatola per le opere d'arte che inizialmente sono francesi. Convergono dalle chiese di Francia, saccheggiate, trasformate magari in stalle, in granai. Convergono dai palazzi dell'aristocrazia, di quegli aristocratici riottosi ad adeguarsi al nuovo regime perché molti altri assolutamente lieti di assecondare la rivoluzione non ne hanno avuto nessuno svantaggio. Ma poi la rivoluzione francese cosa fa? Trasforma anche le altre nazioni dove straborda. E infatti la rivoluzione francese per sua impostazione non è francese ma diventa universale. Ricordate il principio dei diritti dell'uomo e del cittadino. Qui non è viene detto diritti dell'uomo e del cittadino francese ma dell'uomo e del cittadino tout court, di tutto il mondo. Quindi la rivoluzione francese vuole essere universale. La rivoluzione come concetto filosofico è universale. Ed ecco che naturalmente deve riversarsi oltre i confini della Francia. La rivoluzione straborda in Belgio, in Germania e quindi in Italia. E in Italia al servizio di Napoleone Bonaparte la rivoluzione diventa effettivamente uno dei momenti cruciali della storia del nostro paese. Perché nascono le repubbliche giacobine ma anche perché l'esercito rivoluzionario si segnala per la sua particolare violenza. L'esercito dell'Armand d'Italie era tra i più malmessi della Repubblica Francese. I soldati si alimentano sul territorio, derubano le persone della penisola, fatto voluto, scientificamente voluto da Napoleone e dagli altri generali per incutere timore nella penisola italiana e quindi accelerare la vittoria con un'operazione psicologica. Parte di questa operazione psicologica è rappresentata dalla trafugazione delle opere d'arte. Perché ricordate cosa ho detto? Erano degli emblemi, dei veri e propri elementi costitutivi dell'identità dei paesi, specie nelle chiese. Ecco perché la rivoluzione francese si accanisce contro le opere d'arte nelle chiese. Perché la gente andava a pregare davanti a quella madonna, a quei santi, a quelle crocefissioni, si andava a pregare, erano parte dell'identità di una comunità. Se io prelevo una pala d'altare non sto prelevando un'opera d'arte e basta, quindi un'opera che ha un valore monetario fino a se stesso, sto prelevando un'opera che ha un valore identitario, religioso, spirituale e questo i francesi lo sapevano molto bene. Ecco perché la rivoluzione francese si accanisce sulle chiese, poi anche sui musei e collezioni private, i primi che c'erano e specialmente sulle collezioni reali. Infatti dalle collezioni reali della penisola che vengono portate in Francia molte opere, molte opere che altrimenti non sarebbero state esposte, collezioni numismatiche ad esempio, oppure parte delle collezioni, delle pinacoteche e delle grandi dinastie italiane. Anche i monumenti vengono portati in Francia sempre seguendo quest'idea di privare la comunità di qualcosa che è identitario e allora ad esempio da Venezia viene trafugata la quadriga di San Marco che viene portata a Parigi sull'arco del carosello, ma vengono portati via anche tutti gli emblemi, sempre nella Repubblica di Venezia, i leoni di San Marco che sono un esempio eloquente del vecchio regime, sono gli stemmi del vecchio regime, scalpellati e o portati via oppure semplicemente distrutti. Il destino delle opere portate in Francia non sempre è felice, anzi spesso si può dire che sia un destino molto molto triste. Infatti non sempre le opere arrivano intere a Parigi, a Louvre, a volte vengono smembrate perché troppo grandi. È il caso ad esempio della Trinità Gonzaga di Mantova, opera di Rubens, che viene spezzettata in tanti frammenti, un po' come fossero le tessere d'un puzzle, perché? Perché è troppo grande, ma anche perché è poi difficilmente collocabile, quindi difficilmente trasportabile e difficilmente collocabile. Amonte viene da pensare ma allora perché sono andati a prenderla? Ma non bisogna porsi questa domanda, perché per loro non era un valore economico fino a se stesso, non volevano metterla in mostra, ma volevano privare la comunità di un'importante opera d'arte. Allora iniziamo a prenderla, poi vedremo cosa farne. Viene quindi spezzettata, ancora oggi è difficile capire, qui vedete una ricostruzione, è difficile capire come fosse davvero quest'opera nella sua interezza. Anche altre opere, specie quelle religiose, vengono separate, divise, spesso volutamente, perché arrivano a Parigi e poi vengono smistate nei cosiddetti musei dipartimentali. Cosa erano? Erano dei musei che erano stati creati da Napoleone per avere dei piccoli louvre in tutte le città francesi. D'altronde il louvre era ormai ripieno di opere d'arte, erano in ogni dove e dunque non ci stavano fisicamente più, venivano riempite le pareti praticamente dal pavimento al soffitto, senza avere neanche poi una logica, i quadri erano messe alla rinfusa, l'importante era far vedere quello che si era rubato, non studiare le opere d'arte o collocarle con una logica. Ed ecco dunque che le opere potevano essere smembrate, tanto più se religiose, spesso erano dei politici e dunque magari immaginiamo un politico composto di tre parti, una parte andava in un museo, una seconda rimaneva a louvre e la terza in un altro museo. Le predelle andavano perdute, o andavano a collezionisti privati, o ancora finivano nei depositi di qualche altro museo provinciale. Il risultato è che a volte è ancora difficile oggi capire dove sono finite tutte queste opere nella loro interezza. Altre sono state esposte correttamente, valorizzate e ancora oggi il louvre ha delle opere eccelse, frutto delle spogliazioni francesi e tenute con assoluto riguardo. Va detto a tal proposito, se qualcuno sta pensando alla Gioconda la risposta è no. La Gioconda fu ceduta da Leonardo da Vinci a Francesco I di Francia, siamo nel Cinquecento, Leonardo era ancora vivo, ha scelto lui di fare così, quindi la Gioconda, udite udite, non è stata rubata dai francesi. Ripetiamolo insieme per che ancora oggi mi capita talvolta di fare conferenze in giro e di spiegare questo fatto e di avere qualcuno che però dice sì, però la Gioconda è stata rubata dai francesi e da Napoleone, che viene sempre tirato in causa per tutto, questa volta in maniera sbagliata. Quindi non è stato Napoleone a portare via la Gioconda. Rilassiamoci e non facciamo come Vincenzo Perugia, l'imbianchino del Louvre, che convinto che fosse Napoleone ad aver rubato la Gioconda, a un certo punto rubò lui la Gioconda dal Louvre, la mise sotto un panno e se ne andò e tentò di riportarla in Italia spacciandosi sotto il nome di Messie Leonard. Ovviamente fu poi pizzicato e si fece i suoi anni di carcere. Siamo all'inizio del Novecento e il carcere si faceva. Ma la storia surreale serve per far capire che la vicenda delle trafugazioni di opere d'arte è tutt'altro che qualcosa di lontano nel tempo e che non ci riguarda più. Anzi, è ancora sentito, perché se si va nelle comunità, specie quelle piccole, nelle città di provincia, se sono passati i francesi a portare via qualcosa, se lo ricordano ancora e anzi, se voi avete delle testimonianze nel vostro paese, per favore scrivetelo sotto questo video, sarà un utilissimo ricordo e anche un valido elenco di opere d'arte per poter fare eventuali altri approfondimenti. Quindi per me sarà molto utile saperlo e penso un po' a tutti, perché sapere che fine hanno fatto le opere d'arte e sapere da dove sono state portate via è fondamentale per ricostruire almeno virtualmente il panorama artistico italiano. Già, ma come avvenivano queste spogliazioni? Beh, inizialmente erano i generali che avevano ricevuto ordine da Napoleone di procedere con le spogliazioni, andavano, si presentavano nelle case nobili, specialmente le case reali, se c'erano ancora i reali e non erano fuggiti in esilio, si facevano consegnare le opere e nobiltà imponeva che a quel punto venissero cedute, pur con delle rimostranze ufficiali, ma come fecero i Savoia ad esempio, non si opposero alla cessione delle opere d'arte, perché consideravano questo atto un sopruso e consideravano comunque che prima o poi i francesi se ne sarebbero andati. Era una certezza che avevano quasi tutti i membri delle case aristocratiche di allora, certezza mista speranza, poi i fatti diedero loro ragione e molte opere però rimasero in Francia perché non ci furono i mezzi per portarle indietro. Ma spesso e volentieri erano i francesi che entravano nelle chiese ad esempio e asportavano quello che volevano. Talvolta hanno asportato così tanto e saccheggiato così tanto che è anche difficile capire dove sono finiti poi i pezzi. A volte chiudevano definitivamente le chiese perché ricordiamo che i decreti napoleonici prevedevano di livellare il numero delle chiese specie quelle degli ordini contemplativi e allora ricchissime biblioteche come ad esempio quella di Bobbio, tutte via, tutte asportate e se non c'erano dei frati a salvare dei pezzi, dei libri, dei manoscritti chissà dove sarebbero andati a finire. Poi le chiese venivano messe all'incanto, vendute per due soldi, ripeto non bisognava fare cassa, è sbagliato pensare che facessero tutto ciò per fare cassa, avevano bisogno di liquidità, no, erano delle operazioni scientifiche fatte per privare le comunità dei loro religiosi, delle loro opere d'arte, dei loro palazzi storici e via dicendo. Tante la scientificità di quest'opera è stata fatta in maniera tale che a un certo punto Napoleone ha inviato un suo delegato in Italia con la lista della spesa per andare a prendere le opere d'arte migliori sul mercato. Quel delegato si chiamava Vivant Denon e io sul barone Vivant Denon ho preparato giusto due righe che con la nostra musichetta clarinetto scritta da Alberto Mattea direi che sono un utile inquadramento per la presentazione della sua vita. Allora vi leggo giusto queste due righe per presentarvi il personaggio e farvelo anche vedere con dei ritratti. Vivant Denon nacque nel 1747 e fu scrittore e incisore. Fu un diplomatico che fece carriera come segretario d'ambasciata a San Pietroburgo, quindi in Svezia e in Svizzera. Fu anche uno scrittore autore di un racconto libertino a lui attribuito dal titolo Senza Domani. Fu nominato da Napoleone come direttore generale del Museo Centrale della Repubblica che col tempo divenne il Musée Napoléon. Fu riconfermato alla guida del Musée Napoléon, oggi il Louvre, da Luigi XVIII ma si dimise dopo che il congresso di Vienna decise di restituire le opere d'arte. Morì nel 1825 a Parigi. Ed ecco dopo aver visto la brevissima biografia del Denon, che è un personaggio comunque straordinario, affascinante e anche divertente sotto certi aspetti, direi di procedere con lui in questa specie di tour in Italia per andare a prendere le opere d'arte migliori, quello che vi dicevo all'inizio. Andiamo e scegliamo le opere d'arte che ci interessano. Se qualcuna di queste la volete nel vostro salotto, beh, chiamate Barone Denon, penso che vi possa fare un buon prezzo. Via con l'animazione. La campagna acquisti di Vivant Denon può partire dalla prima tappa, cioè Savona. Nel 1811 una meravigliosa opera, il cosiddetto Trittico della Rovere, vestò l'attenzione del Barone, oggi il Trittico della Rovere, e al Petit Palais d'Avignone. La seconda tappa fu Genova, dove il Barone Denon volle il martirio di Santo Stefano di Giulio Romano, poi tornato nel 1814. Terza tappa, la Spezia. L'incoronazione della Vergine di Andrea della Robbia e la moltiplicazione dei panni di Giovanni Battista Casoni furono selezionati dal Denon, ma tornarono in patria con la restaurazione. Quarta tappa, Pisa. Maestà del Cimabue, oggi detta Maestà del Louvre, capolavoro degli anni Ottanta del Duecento, collocato nella chiesa di San Francesco, rimasta in Francia, dove rappresenta uno dei pezzi principali della collezione del Louvre insieme alle stigmate di San Francesco di Giotto, che erano sempre collocate nella chiesa di San Francesco. La celebre opera, firmata Opus Gioti Florentini, è rimasta in Francia. Dal Duomo di Pisa sono stati prelevati San Tommaso d'Aquino tra i dottori della chiesa di Benozzo Gozzoli e San Benedetto di Andrea del Castagno. Dalla quinta tappa a Firenze, dalla chiesa di Santa Maddalena dei Pazzi, Denon prelevò la visitazione di Domenico Ghirlandaio. Dall'Accademia delle Belle Arti, la presentazione al Tempio di Gentile da Fabriano. Dalla chiesa del Santo Spirito, la pala Barbadori, capolavoro di Filippo Lippi, della quale sono tornate solo le predelle. Poi Gesù che appare alla Madonna del Bronzino. Sesta tappa, Fiesola e tutte le opere del Deato Angelico che Vivant Denon riuscì a trovare, cioè la Crocefissione, l'Incoronazione della Vergine, la Madonna col Bambino. Settima tappa, Arezzo, Annunciazione di Giorgio Vasari. Ottava tappa, Roma ed Intorni, specialmente Grotta Ferrata, dove Denon propose il mostruoso stacco di 48 affereschi del Domenichino dall'Abbazia. Ottava tappa, Milano. Qui Denon barattò alcune opere con la Pinacoteca di Brera, lamentandosi perché il direttore, Andrea Piani, non voleva cedere i suoi capolavori all'imperatore. Ma come? Di che si tratta in realtà, scriveva Denon. L'imperatore prende dal suo museo di Brera cinque quadri per il suo museo di Parigi, dove cerca di completare la più straordinaria raccolta che sia mai esistita e che deve in fondo la sua esistenza proprio alle vittorie dell'imperatore. Sua maestà avrebbe potuto prendere questi quadri senza dover mandare in cambio quelle tre belle opere di scuola fiamminga che il Denon aveva proposto alla Piani. Qualcuno di voi avrà forse intuito che al Denon interessavano particolarmente le opere del 2300 italiano, specie quelle dei cosiddetti primitivi toscani. E non è un errore, anzi, Denon era veramente interessato a queste opere. Perché? Perché nel suo Louvre mancavano le opere del 2300, che fino a quel momento erano considerate opere di serie B. Mentre agli artisti che avevano visitato l'Italia e che avevano compilato i famosi diari di viaggio da cui i francesi si ispiravano per prelevare solo le opere di assoluta qualità, bene, queste opere del 2300 non comparivano. Loro interessavano le opere barocche del 700 o del Rinascimento. Le opere più antiche erano percepite ancora come medievali e quindi roba polverosa del vecchio medioevo oscuro e clericale. Denon invece aveva un'idea enciclopedica, era un uomo del 700, cresciuto con l'idea dell'enciclopedia e dunque il suo Louvre doveva diventare l'enciclopedia delle arti. Come andò a finire? Andò a finire che nel 1813 Denon, tornato al Louvre, posizionò i suoi quadri e regalò anche alcune opere a dei suoi amici o specialmente per diplomazia a delle altre case reali, le quali accettarono. Ad esempio lo zaro Alessandro di Russia ebbe alcuni regali dal Denon, ma dopo aver posizionato tutte le sue opere e aver completato il suo museo e spazzolato lo zarbino davanti al museo per accogliere i turisti, ebbene il museo rimase vuoto, vuoto di turisti, perché Napoleone perse le sue battaglie, perse la campagna di Russia, la battaglia di Lipsia e infine Waterloo. Con la caduta dell'impero napoleonico, il senso del Museo del Louvre, Musee Napoleon, venne meno, perché non c'era più bisogno dell'enciclopedia delle arti, anzi le varie case reali iniziavano a pretendere indietro i loro pezzi d'arte che i francesi avevano sottratto. Andò a finire che alcune dinastie riuscirono a ottenere quasi tutte le opere d'arte, specie la dinastia asburgica, oppure una dinastia prussiana perché avevano a Parigi degli eserciti che potevano anche prendere con la forza ciò che i francesi non volevano consegnare. Per l'Italia andò diversamente, intanto perché non c'era una monarchia, c'erano tanti staterelli che non avevano rappresentanze militari a Parigi e poi bisognava sempre chiedere per favore all'Inghilterra che intercedesse in maniera favorevole. A tal proposito bisogna ricordare che a intercedere spesso fu l'Inghilterra che aveva dei rapporti molto buoni con gli stati della penisola italiana, specialmente fu l'Inghilterra a tutelare il ritorno delle opere d'arte a Roma che furono riportate grazie all'impegno del Canova. A proposito del Canova voglio leggervi una breve sua lettera che penso sia utile per capire come queste opere d'arte ritornarono nella nostra penisola, se tornarono. Via il passo antologico. Eccoci qua. Traggo questa lettura da un volume che ho scritto io, Napoleone ladro d'arte, che dà anche il titolo a questo nostro intervento e che riassume un po' le vicende che vi ho raccontato oggi. Qui è proprio il Canova che scrive l'amico Lopoldo Cicognara riguardo a come lui ha lavorato per portare a termine la sua opera di selezione dei capolavori presenti a Parigi nei musei dipartimentali, che era stata fatta, pensate, tutta a memoria, perché non c'era la lista delle opere trafugate. Sarebbe veramente stato uno scandalo che tutti avessero recuperato i loro oggetti d'arte e Roma sola fosse esclusa da tal numero. Io sono dunque autorizzato dalle potenze alleate a ripigliare la massima e miglior parte dei nostri capi d'opera di pittura e scultura. Dico la massima e miglior parte perché sono costretto a lasciarne qui parecchi a mia scelta però. I primi capi di scultura stanno in miei mani, anzi in una caserma austriaca e si incassano i quadri migliori che ho potuto recuperare di Roma o dello Stato, senza averne pure una nota precisa, come era necessario e come l'aspetto da Roma a ogni momento. Quindi vedete che lui si lamenta che non ha una nota, cioè un elenco preciso di opere da portare a casa, erano tutte in base ai suoi ricordi. Se qualche cosa si lascia o si perde, la colpa non è mia, colpa è di chi mi ha mandato senza una speranza di frutto e senza un documento solo di ciò che si doveva reclamare. Eppure il meglio si è tolto e tutto per forza di baionette prussiane, austriache e inglesi. Perché queste tre potenze particolarmente ci proteggono e l'Inghilterra paga le spese del trasporto da Parigi a Roma. Bella cosa. Bene signori, abbiamo fatto un lungo excursus, forse sorprendente per qualcuno, per altri riduttivo, ma ovviamente non potevo raccontare tutto. Non ho raccontato della restituzione delle opere dei diversi paesi e non ho fatto una cronaca puntuale in ogni città. Ovviamente dovrete scusarmene, ma questo è un documentario di tono divulgativo, non voleva essere un'enciclopedia, per chi vuole saperne un po' di più c'è il mio libro, ma anche quello non è completo al 100%, per un motivo, perché molte opere non sono mai state censite, non c'è un censimento ufficiale delle opere che sono emigrate in Francia ob torto collo, specie delle opere minori. Quindi non sapremo mai quanti tesori, anche piccoli, sono stati portati in Francia o si sono dispersi o hanno rischiato di distruggersi, come è successo al gruppo statuario dell'Auconte, che è precipitato in un crepaccio nelle Alpi durante il trasporto, questa volta il trasporto di nuovo in Italia e quindi è stato recuperato e messo insieme come un grande puzzle. Pensate quanti danni sono stati fatti, è tutto per asservire un'ideologia, l'ideologia del saccheggio fino a se stesso, dell'arte per l'arte, che deve essere un numero da mettere in un museo, un museo che contiene 100.000 opere d'arte, grandioso museo, ma che cosa c'è dentro? Ma ci perderemo le settimane a contemplare quelle opere d'arte, a studiarle, ad apprezzarle, mentre potremmo apprezzarle di più nei luoghi dove si trovavano. Qui devo ancora fare un inciso, precedentemente le guerre non avevano questo intento di saccheggio premeditato, magari si portava via qualcosa, ma molto poco e spesso durante i trattati di pace veniva pretesa una restituzione se era stato portato via qualcosa di rilievo, perché non era uso e costume portare via opere d'arte che si sapeva essere degli emblemi delle comunità. Con la rivoluzione francese l'arte è diventata un qualcosa che ha un valore commerciale, che ha un valore numerale e quindi si deve esporre in musei per il puro gusto di avere delle sale piene, raramente per lo studio e anche oggi sono convinto che molti di coloro che vanno al museo non vanno per studiare ma vanno per avere quella meravigliosa sensazione che è la sindrome di Stendhal, che tra l'altro viene inventata come patologia proprio in quest'epoca, ma non ci vanno per avere un vero e proprio apprezzamento, per accrescere culturalmente studiando opere di autori magari sconosciuti. Questa nuova concezione d'arte, che per carità è perfettamente lecita, però è figlia della rivoluzione francese. Non so se sia bene o male, se fosse meglio prima o meglio oggi, sta di fatto che le cose sono così e oggi i musei risentono di quella impostazione antica che hanno dato le baionette dei rivoluzionari e di Napoleone. Con questo io vi saluto, è stata una bella carrellata, una bella esplorazione di un particolare pezzo di storia italiana, scrivetemi che cosa ne pensate, a voi tutti va il mio saluto e il mio augurio a ritrovarci nuovamente insieme. Alla garfiene, arvezzè!